La Basilicata si progetta. È il nome della proposta di legge presentata dai consiglieri a Cito, Piro e Bellettieri di Forza Italia, tesa a far ripartire l'economia lucana in tempi brevi e con interventi decisivi. Una PDL spiegano gli esponenti politici per consentire a tutti i comuni lucani di dotarsi di una banca di progetti da cui attingere per raccogliere la sfida del rilancio del settore delle infrastrutture nel post-Covid-19. Il capogruppo d'Italia Viva, Brian, nella giornata dedicata agli infermieri, ha presentato una mozione per il riconoscimento economico e la legittimazione della professione infermieristica. Il rafforzamento della medicina territoriale, portando il rapporto infermieri-medici minimo a livello della media italiana, dice, è un obiettivo strategico. Non bastano solo ringraziamenti di circostanza, ma servono riconoscimenti concreti e legittimazione reale della professione. Sulla vicenda derivati, sulla quale è in corso l'indagine della Corte dei Conti, che ha invitato alcuni esponenti politici a dedurre per un danno erariale di oltre 51 milioni di euro, causato da strumenti finanziari sottoscritti nel 2006, interviene il Movimento 5 Stelle. Leggeri, Perrino e Carlucci, evidenziano come, nonostante una risoluzione approvata in Consiglio nel maggio 2017, per mettere in campo tutti gli strumenti necessari a limitare gli ingenti danni, l'azione della Regione sembra essersi arenata. Non possiamo continuare ad assistere al silenzio assordante della Regione sulla crisi della Banca Popolare di Bari, mentre sembra che stiano per chiudere sette delle 33 filiali presenti nel territorio lucano. Così il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Polese d'Italia Viva, che chiede un impegno immediato all'esecutivo regionale per la salvaguardia dei posti di lavoro e per l'individuazione di strumenti di tutela e ristoro dei soci azionisti. La proposta di legge di iniziativa di Zullino della Lega Viziello di Fratelli d'Italia e Baldassarre di DEA, che prevede l'istituzione dell'amministratore di sostegno per tutelare persone che a causa di un'infermità fisica o psichica sono impossibilitati, anche temporaneamente, a provvedere ai propri interessi, è stata licenziata con parere favorevole all'unanimità dalla Seconda Commissione Consiliare. Il progetto di legge, come ha spiegato Baldassarre, pone la sua attenzione anche nei confronti della famiglia che si fa carico dell'assistenza diretta al soggetto debole. E' Lucano uno dei cinque finalisti del contest lanciato dalla Juventus per chiedere ai tifosi di reinterpretare il logo della vecchia signora, il cui vincitore verrà decretato sull'app Socios.com. Si tratta dell'artista potentino Marroccoli, meglio conosciuto come Mr. Mar. Per il consigliere della Lega Sileo questo risultato ci ricorda l'importanza del talento e della dedizione, che in un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, rappresentano un volano per la ripartenza. Contrastare la diffusione di notizie false che riguardano la pandemia del coronavirus, con uno strumento istituzionale quale segnale di attenzione verso l'opinione pubblica, in nome della trasparenza e della correttezza dell'informazione. E' così che il presidente del Corecom della Regione Basilicata, Marra, annuncia l'istituzione dell'osservatorio sulle fake news coronavirus, un'iniziativa che vedrà la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata. E' tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione.